Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo mio nuovissimo video Oggi signori siamo qui in questo brevissimo video per dirvi perché oggi non ho pubblicato Allora oggi signori stavo preparando la nuova stagione del Rian che per voi è la 2 ma per noi che giochiamo da un po' questo mondo è la 5 Ma intanto ditemi se vi piace la mia skin perché questa è quella ufficiale Ditemelo qui sotto nei commenti mi raccomando signori Comunque il tema di questa stagione è quello moderno Ah e purtroppo non sono più un re vabbè me ne farò una ragione Ciao ciao